Torna a Teramo la notte bianca prevista per sabato sera, questa volta non organizzata dall'amministrazione ma dai commercianti. Torniamo con la notte bianca, una notte bianca un po' diversa perché abbiamo voluto dare spazio anche ai piccini, infatti dalle ore 16 avremo intrattenimento per i bambini su tutte e tre corsi questa volta, quindi Corso San Giorgio, Corso Cerulli, Corso dei Michetti dove saranno comunque clown, giocolieri, si regaleranno palloncini, artisti da strada fino alle ore 19.30 per poi passare verso le ore 20 con tutti i bar che faranno un menu fisso quindi ognuno potrà scegliere il prezzo per la cena e in tutti i bar si proietterà la partita Italia-Germania quindi daremo un momento di divertimento e speriamo un buon divertimento con un buon risultato della partita per arrivare fino alle 11.30 dove in cinque punti dei tre corsi. Quindi negozi aperti fino a tardanotte, è stata difficile questa organizzazione? È stata difficile perché l'abbiamo fatta in tempi veloci, una settimana, quindi è dura, organizzare in poco tempo è duro.